Siamo tutti lì dentro? Io. Laura? Anni? 25. Vi offre di meno? Chi è? Quando? Ragazzi, non dite 19 così per parte. Il scorso anno 600 assunti, di cui 400 con Jobsat. Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Quei che fanno di bello? Ci siete sviluppatori. Software. Io suggerirei di sapere le politiche, non vorrei essere responsabile per me. Quanti siete qua? Il gruppo sviluppatori quanti sono al totale? Siamo tutti qui a Pomezza tra 150 e conversamente 400-450. Uno, due, tre, quattro ingegneri. Poi? Statistica. Statistica. Lettere. Lettere. E com'è che fai con il voluto sotto? Perché mi piace. Ma frega il voluto. Non so. La seconda volta ti faccio fare i fatti suoi. Bene, in bocca al lupo. Buon lavoro di cuore. Buon lavoro di cuore. Arrivederci. Buon lavoro. Quindi. Ciao. Amy story.. .. Grazie a tutti